Prender via domani il Festival Printemps des Arts di Monte Carlo con un concerto all'auditorium Rainer III alle 20.30 in programma musica di Cagher e di Beethoven interpretata dalla Sinfonia Varsovia e da François-Frédéric Gouy impegnato nel duplice ruolo di direttore pianista. Cifra del Festival Printemps des Arts di Monte Carlo dà sempre il dialogo tra Novecento e Contemporaneo da un lato e le pagine monumentali del repertorio dall'altro, dialogo animato anche da conversazioni musicali che fanno da preludio ai concerti. L'apertura del Festival di venerdì e sabato è consacrata a Beethoven e ruota intorno all'integrale dei concerti per pianoforte ma non rinuncia all'accostamento con pagine di Maurizio Cagher dove le percussioni la fanno da padrone. Protagonista dell'integrale François-Frédéric Gouy classe 69 specialista del repertorio classico e romantico che parteciperà anche a un incontro col pubblico il sabato mattina. A chiudere il weekend domenica la magnifica Salle Empire dell'Hôtel de Paris, alle 18 saranno invece i quartetti di Beethoven nell'esecuzione del quartetto Parker che apre così un altro percorso all'interno del Festival ancora all'insegna di Beethoven stavolta camerista. Il Printemps des Arts proseguirà fino al 14 aprile con 350 artisti e 20 concerti. Il Printemps des Arts